1, 2, 3, 4 ok, strezzo 1, 2, 3, 4 né più né meno quando c'è di meschichezza mi metto in sac a b apro sempre la guardia opposta lascio apposta il buco 1 lascio il buco 1 lascio il buco 1 occhio su, giù, su scende sale apre, chiude prende, dà 3D 3D, se diventa 2D, 2D non funziona, non voglio che vedrete così non dovete rimanere i cucchini, su ok 1 1 1 1 e occhio ai polsi no si 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 ok vai preparazione in sciam o yang sciam ok 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 ok